Ciao a tutti. Il narcisismo è un tratto della personalità caratterizzato da una percezione gonfiata di se stessi, una mancanza di empatia per gli altri, un bisogno costante di ammirazione. Le relazioni con persone narcisiste possono essere complesse e dannose poiché spesso la dinamica ruota intorno alla gratificazione del narcisista lasciando l'altra parte emotivamente prosciugata. Dopo una rottura con un soggetto narcisista è comune che l'ex partner si chieda se il narcisista possa davvero dimenticare così velocemente come sembra apparire in molti casi. Ma la domanda reale è, i narcisisti dimenticano le loro ex velocemente o c'è qualcosa di più profondo in gioco? Per comprendere come i narcisisti affrontano le rotture amorose è importante prima esaminare la struttura tipica delle relazioni con una persona con il disturbo narcisistico di personalità. Queste relazioni spesso seguono uno schema ben definito che include tre fasi principali, idealizzazione, svalutazione e scarto. All'inizio il narcisista può sembrare un partner perfetto, adulando l'altra persona e facendola sentire al centro del mondo. Tale fase è caratterizzata da gesti grandiosi e dall'apparente totale dedizione. Man mano che la relazione prosegue, il narcisista inizia a svalutare il partner. Gli aspetti che prima sembravano così attraenti diventano difetti insopportabili agli occhi del narcisista, che inizia a criticare e manipolare emotivamente il partner per ottenere controllo e potere. Infine, quando il narcisista ha ottenuto tutto il rifornimento narcisistico possibile, potrebbe decidere di abbandonare il partner, spesso in modo improvviso e insensibile. La fine della relazione è tipicamente brusca, lasciando l'ex partner devastato. In questa dinamica la persona narcisista non è motivata dall'amore o dal legame emotivo autentico, ma dalla ricerca costante di ammirazione e conferma del proprio valore. È proprio questa mancanza di legame emotivo genuino che può far sembrare che i narcisisti dimentichino velocemente le loro ex partner. Uno dei motivi per cui i narcisisti sembrano dimenticare rapidamente è legato al concetto di rifornimento narcisistico. Infatti, il narcisista non è alla ricerca di un legame profondo e autentico, ma di un costante flusso di attenzioni e ammirazione convalida da parte degli altri. Questo rifornimento è essenziale per il suo fragile senso del sé. Quando un padre non è più in grado di fornire tale approvvigionamento, il narcisista può passare a qualcun altro per riempire quel vuoto interiore. In molti casi il narcisista potrebbe già avere un'altra persona in mente o addirittura aver iniziato una relazione parallela prima della rottura ufficiale. Questo fenomeno è noto come triangolazione dove il narcisista mantiene più relazioni per assicurarsi di avere sempre una fonte di rifornimento disponibile. Dopo una rottura, il narcisista può sembrare che abbia dimenticato rapidamente l'ex, ma in realtà non sta dimenticando la persona, sta semplicemente sostituendo la fonte di gratificazione emotiva. Un'altra ragione per cui i narcisisti sembrano dimenticare velocemente le loro ex è legata alla loro mancanza di empatia. I narcisisti, soprattutto quelli con un disturbo narcisistico della personalità, hanno difficoltà a provare a comprendere le emozioni degli altri. Di conseguenza, le relazioni con loro tendono a essere superficiali e orientate al loro vantaggio personale. Quando un narcisista interrompe una relazione, non sperimenta il dolore della separazione allo stesso modo di una persona empatica. Non si tratta di un distacco emotivo volontario, ma di una mancanza strutturale di empatia. Tale incapacità di sentire il dolore altrui rende il narcisista apparentemente freddo e distaccato, dando l'impressione che dimentichi facilmente l'ex partner. Tuttavia, non si tratta di dimenticanza nel senso tradizionale, ma piuttosto di una mancanza di coinvolgimento emotivo profondo fin dall'inizio. Sebbene i narcisisti possano sembrare distanti e pronti a dimenticare le loro ex, è importante notare che molti di loro tendono a tornare sui loro passi. Un comportamento noto come hovering, ovvero risucchiare l'ex partner nella loro orbita dopo un periodo di separazione. Il ritorno improvviso del narcisista non è un segno di vero pentimento di rimorso, ma di un calo delle fonti di rifornimento narcisistico altrove. Quando il narcisista non riesce a trovare qualcun altro che soddisfi i suoi bisogni emotivi o egocentrici, può tornare dall'ex partner, cercando di manipolarla nuovamente. In questi casi l'apparente dimenticanza del narcisista si rivela essere solo temporanea, dettata dall'opportunità di ottenere ciò di cui ha bisogno in quel momento. Un aspetto che spesso inganna coloro che si trovano in relazioni con persone di matrice narcisistica è la capacità di quest'ultime di mascherare i propri sentimenti e proiettare un'immagine di forza e indipendenza. Dopo una rottura il narcisista può fare di tutto per far credere che sta benissimo, pubblicando foto sui social media, vantandosi di nuove conquiste o esibendo un'apparente felicità. Questa necessità di apparire invunerabile è una delle difese principali del narcisista contro il senso di vuoto interiore che potrebbe provare. Non si tratta di un'autentica dimenticanza dell'ex, ma piuttosto di una messa in scena finalizzata a proteggere il proprio ego. Mostrare debolezza o dolore significherebbe ammettere un fallimento, cosa che un narcisista è solitamente riluttante a fare. In breve, la risposta alla domanda se i narcisisti dimenticano velocemente le loro ex è complessa. Da un punto di vista superficiale può sembrare che lo facciano, a causa della loro apparente mancanza di empatia e della loro capacità di passare rapidamente a nuove relazioni. Tuttavia, ciò che dimenticano non è l'ex partner in sé, ma piuttosto l'utilità che quella persona rappresentava nel fornire loro attenzione e gratificazione. Il narcisista non forma legami autentici, quindi non sperimenta il dolore della perdita nello stesso modo di una persona emotivamente sana. Piuttosto cerca sempre nuove fonti di rifornimento per soddisfare il proprio bisogno di validazione. Nel momento in cui una fonte non è più disponibile, il narcisista si sposta rapidamente su un'altra, creando l'illusione che dimentichi facilmente. Tuttavia, il narcisista non dimentica completamente, poiché spesso ritorna ogni volta che ha bisogno di risucchiare nuovamente l'ex nella sua rete di manipolazione. Questo comportamento dimostra che più che dimenticare le persone, il narcisista dimentica il loro valore emotivo e relazionale, trattando gli altri come oggetti da usare e scartare a proprio piacimento. In sintesi, i narcisisti non dimenticano le loro ex nel senso tradizionale del termine, ma piuttosto non si impegnano mai veramente in una connessione autentica. La loro velocità nel passare oltre è una funzione del loro bisogno di mantenere costantemente il proprio ego gonfiato, attraverso nuove fonti di attenzione e di ammirazione. Tutto ciò rende le relazioni con loro non solo brevi, ma anche emotivamente disastrose, soprattutto per chi ne è coinvolto. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.